Noi siamo molto affezionati a Schmidt, quindi vogliamo tenerlo a Napoli, a Capodimonte. Devo dire che ho considerato anche un po' offensivo per Napoli che qualcuno si facesse nominare direttore del museo di Capodimonte, poi se ne andasse a fare la campagna elettorale mettendosi in aspettativa, poi se non viene eletto a Firenze ritorna a Capodimonte. Napoli è una grande capitale del mondo, non si può offendere la dignità di Napoli in questo modo, vado, vengo, ha lasciato il cappello sulla sedia a Capodimonte, noi gli faremo trovare neanche la sedia.